Perché se no comincio a offendere anch'io, io parlo sempre bene, taci, perché se no te ne dico quattro e c'è presente anche chi gli ha dovere, capito? Vieni qua a parlare, non scappare con Monvile, capito? Abbiamo politicamente questionato diverse volte, io dicevo guarda, Grillo sta facendo delle belle cose, però non l'ho votato perché è un po' volgaretta e se si calmasse un po' magari prende anche il mio voto. Patrizia Bedori, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Milano. Ci sono più di 80 amministratori del PD e nessuno ne chiede le dimissioni, siamo qui per quello, per chiedere le dimissioni. Sindaci condannati, sindaci indagati del PD, difenda De Luca in campagna è presidente della regione da condannato in primo grado. La politica in un paese normale non può pensare di avere rappresentanti del popolo condannati o indagati. Questa gente non rappresenta i cittadini, se ne deve andare a casa. Renzi sta facendo l'esatto opposto di quanto diceva due anni fa, rottamiamo chiunque non rappresenta bene i cittadini, li sta difendendo tutti perché lui è il primo. Ballardini si deve difendere perché i cittadini di questo comune e le centinaia di migliori di cittadini di altri comuni italiani amministrati dal PD non possono più sentirsi rappresentati da gente agli arresti domiciliari. Questo deve tornare ad essere un paese normale, avere un sindaco arrestato è anormale. dell'avventura di campagna è un gruppo comuni che sono amministrati da persona. Per un amministratore di politica non ci deve finire l'ombra. Grazie. 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 Grazie.